Ben ritrovati, nuovo appuntamento con l'informazione del telegiornale ITV City. In apertura la cronaca con il sequestro a parte della Guardia di Finanza di oltre 200.000 euro al centro medico CMO di Torre Annunziata. Il centro si sarebbe reso responsabile di una truffa aggravata ai danni dell'Asla Napoli 3 Sud. Maxi operazioni invece ai carabinieri contro il racket dell'immigrazione clandestina. 13 arresti legati anche agli attentati di Charlie Hebdo. E passiamo ora alla situazione sanitaria con la campania che rischia la zona arancione dopo i liberi tutti della scorsa settimana. La gente continua a non rispettare le misure di contenimento. Passiamo ora alla politica cittadina con il consigliere Salerno che critica l'amministrazione comunale di Torre del Greco. Siamo al capezzale di un morto, ha annunciato. In chiusura, Don Gesù è che introduce il mese mariano parlando delle celebrazioni liturgiche in Santa Croce. Questo ed altro nei nostri servizi. Il gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata e la sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Torre Annunziata, hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo per un valore complessivo pari ad oltre 209 mila euro nei confronti del CMO, Centro Medico Polispecialistico Plontino di Torre Annunziata e dei suoi amministratori di fatto, i quali sono indagati unitamente ad altri soggetti per i reati di truffa aggravata ai danni del sistema sanitario regionale, in particolare dell'Asla Napoli 3 Sud, di falso ideologico in atto pubblico e di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di tali truffe. La suddetta misura costituisce l'esito di un'articolata indagine che ha preso le mosse da una segnalazione della medesima Asla Napoli 3 Sud riguardante la rilevazione di abnormi flussi di prescrizioni mediche e di particolari prestazioni di laboratorio ad alto costo, tutte eseguite tra il 2015 e il giugno 2016 presso il centro citato di Torre Annunziata. Dalle indagini è emersa l'esistenza di un collaudato sistema fraudolento, posto in essere dagli organi apicali del Centro Medico Polispecialistico Plontino e dataluni operatori sanitari, finalizzato mediante induzioni in errore della predetta Asla Napoli 3 Sud, in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'erogazione di prestazioni sanitarie ad alto costo, a conseguire un profilo illecito con corrispondente danno dell'Asla. Complessivamente quantificabile in 209 mila euro, effettivamente erogati, nonché in ulteriori 185 mila euro, la cui erogazione è stata invece bloccata. In particolare, la truffa aggravata posta in essere ai danni del sistema sanitario regionale, prevedeva da parte di alcuni compiacenti medici di medicina generale che agivano d'intesa con i vertici del CMO, la simulazione di campagne di prevenzione per il rischio cardiovascolare per il tumore al collo dell'utero, facendo leva sulla buona fede degli assistiti. Ai quali venivano assicurati esami gratuiti presso il centro medico in argomento e finché la disponibilità di un vero e proprio servizio di accompagnamento a mezzo di navetta presso quest'ultimo. Nonché la prescrizione degli esami genetici mediante impegnative messe in assenza della necessaria visita specialistica, indicando fraudolentamente la prestazione come suggerita da ignari medici specialistici. Tale sistema ha determinato l'aumento in maniera esponenziale delle prestazioni sanitarie ad alto costo da parte dei laboratori di genetica del CMO di Torra Annunziata, senza che i pazienti sottoposti a tali esami avessero sostenuto alcuno a preventiva visita da parte di un medico specialista che, per converso, avrebbe dovuto preventivamente prescrivere la relativa prestazione diagnostica. Le indagini hanno consentito di accertare un ulteriore tentativo di truffa ai danni del sistema sanitario ad opera del medesimo centro specialistico posto in essere fino al marzo 2017, finalizzato ad ottenere indebitamente rimborsi dall'ASL Napoli 3 Sud per un importo non liquidato di circa 230 mila euro per prestazioni sanitarie ad alto costo relative a pazienti oncologici. Sono scattate dopo gli attacchi terroristici in Francia e in Belgio come il blitz alla sede del giornale satirico parigino Charlie Hebdo del 7 gennaio 2015 e l'attentato al teatro Bataclan del 13 novembre 2015. Le indagini che hanno consentito di individuare e sgominare con 14 misure cautelari l'organizzazione criminale che, a Napoli, favoriva l'immigrazione clandestina producendo, dietro compenso, documenti falsi per ottenere i permessi di soggiorno per l'Italia e quindi anche per gli altri paesi dell'area Schengen. A coordinare le indagini è stata la procura di Napoli che contesta anche il reato di corruzione. A capo dell'organizzazione c'era un pakistano, proprietario anche dell'internet point sequestrato, per il quale è stato risposto il carcere e un marocchino per il quale il GIP ha risposto i domiciliari. L'organizzazione si estendeva oltre i confini italiani. Gli indagati erano infatti in contatto con persone residenti in Belgio e Francia. La documentazione falsa per i permessi di soggiorno stampata a Napoli veniva anche fatta per venire a persone residenti in quei paesi. Ovviamente tutto dietro compenso. La base dell'organizzazione era stata collocata nell'internet point del pakistano. Campania in zona gialla, ma già rischia di tornare arancione. Come era prevedibile, dopo oltre un mese di zona rossa, le minori restrizioni si sono trasformate in un incontrollato afflusso verso strutture balneari, agriturismi, sciale sul lungomare, baretti vari. Tanti si sono concessi un tanto atteso aperitivo con amici, dimenticando completamente le norme di contenimento. Inoltre, il coprifuoco delle ore 22 è stato ampiamente violato in molte zone. Non aiuta l'indice RT, che venerdì scorso era già all'1,08, quindi un dato da rischio moderato. La Campania ha conservato la zona gialla solo per il basso livello di stress delle strutture sanitarie ed il rapporto fra numero di tamponi e nuovi positivi. Tuttavia, con l'indice RT in costante aumento, è molto probabile che già dalla prossima settimana la nostra regione ritornerà a misure più restrittive. Anche i dati delle strutture sanitarie iniziano a peggiorare. Le ricerche Agenas dicono che i ricoveri in Campania oggi sono in leggero aumento, così come le proiezioni a sette giorni riportano una potenziale tendenza all'aumento dell'occupazione dei posti letto in terapia intensiva e in degenza. Lo stesso governatore De Luca, ieri durante l'inaugurazione dell'hub vaccinale di Capodichino, ha mostrato preoccupazione per la situazione sanitaria. «Ho visto immagini che mi preoccupano. Migliaia di persone in giro senza mascherina significa», annuncia il Presidente, «che fra due settimane andiamo in zona russa e ci giochiamo l'estate». Siamo qui oggi con il consigliere Salerno che ha da poco ricevuto la delega dal comunitore del Greco per rappresentarlo nella querelle per il crack dei Ulemar. Il mio ruolo è quello di essere un riferimento istituzionale per tutto quanto afferente la tematica. Probabilmente è anche una delega tardiva, visto che arriva dopo nove anni dal crack l'impegno da parte delle istituzioni di dare mandato di rappresentanza tanto nei discorsi sovrastituzionali quanto nelle relazioni con i comitati e le associazioni di obbligazionisti a cui va il mio più grande applauso perché non hanno mai smesso in primis loro di credere in un ristoro economico e di dignità. Cosa può fare l'amministrazione in una condizione del genere? Come può aiutare effettivamente i creditori truffati? Si può approvare in Parlamento una proposta di legge a prima firma dell'onorevole Luigi Gallo che darebbe l'opportunità ai truffati della Dei Ulemar di essere indenizzati al pari dei truffati delle banche. È chiaro che quindi ora è necessario alzare la tensione politica. A giorni sottoporremo al sindaco la sottoscrizione di una lettera destinata al ministro dell'economia. faremo lo stesso anche con il presidente della commissione banca. Cercheremo un dialogo con i sindaci anche di Ercolano, Monte di Proce, Datola Annunziata che sono gli altri tre comuni dove si sono registrati un maggior numero di truffati per far partire anche una petizione popolare così da cercare nel nostro piccolo di aumentare quella pressione e trovare quante più adesioni al momento dell'approvazione della legge. Ad oggi, dopo nove anni, qual è la situazione per Torre del Greco e per l'economia di Torre del Greco per quanto riguarda il crack? La truffa Dei Ulemar è potuta avvenire, a mio avviso, perché Dei Ulemar, così come la Banca di Credito Popolare la lavorazione del corallo è stato a un certo punto della nostra vita torrese un qualcosa che ci apparteneva, esisteva. Noi avevamo coscienza di quello che potesse essere la Dei Ulemar perché avevamo l'esperienza del vicino, dello zio. Eravamo stati al matrimonio che era stato pagato con i soldi investiti nella Dei Ulemar. Quindi era un qualcosa, dire Dei Ulemar significava direttore del greco. E quindi è stato, oltre alla truffa economica, un colpo al cuore della città. Spostandoci ora sulla politica cittadina, sono passati mesi dalla nuova giunta. C'è ancora quella situazione d'un pass o si è andate avanti? Siamo al capezzale di un morto. A mio avviso è questa la situazione. Non c'è sprint in questo nuovo corso. Si stenta a vedere effettivamente degli atti, un'inversione di marcia. Probabilmente, pur avendo fatto una metafora forte, è effettivamente così la situazione. Quello che tengo a sottolineare è che siamo prossimi all'approvazione del recovery plan che prevederà da quel momento in poi una competizione tra gli enti locali a cercare di ottenere risorse per dare effettivamente un nuovo corso alla città. A mio avviso con questa amministrazione arriviamo non solo in ritardo, ma scariche senza le competenze necessarie per poter sfruttare questa occasione. Quindi l'appello che stiamo lanciando da mesi, quello di portare pagina, di dare elezioni pulite e di nuovo voce ai cittadini, sarebbe un'occasione da non perdere per tutti questi aspetti. Quindi tornare ai 6 giorni ad ottobre sarebbe uno scenario possibile? Io me l'auguro. Possibile dipende in primis dal sindaco e dalla sua maggioranza. Se effettivamente è attornato da una maggioranza stabile, non è questa la sensazione che abbiamo. Più che possibile io me lo auguro. Fedeli miei, siate devoti alla Madonna, diceva San Vincenzo Romano. Una parola di Maria Santissima al suo divenfiglio, basta far ottenere qualunque grazia. È il senso profondo del mese mariano. Ricco come di consueto il calendario di appuntamenti alla Basilica Pontificia di Santa Croce, momenti di preghiera e catechesi per vivere con fervore e devozione il mese di maggio. In Basilica, come in tutte le parrocce della città, si celebra con particolare fervore questo mese che la pietà popolare dedica alla mamma di Gesù e anche alla mamma nostra. Qui in Basilica abbiamo tre appuntamenti fissi ogni giorno, alle sette del mattino, alle nove e alle diciotto e trenta per la preghiera del Rosario, cui segue la celebrazione eucaristica con l'Omelia, che così dà l'opportunità di fare anche un cammino di fede sotto lo sguardo della Madonna. Stiamo adesso preparando la prossima domenica, la festa della mamma, e poi giorno otto, alle undici e trenta ci sarà la recita del Rosario, a mezzogiorno la supplica alla Madonna di Pompei, ed essendo proprio l'otto del mese, a sera come sempre, ma con particolare solennità vivremo il Vespro, l'adorazione e il canto della Buonanotte a Maria. Questo è un mese che ci prepara anche alla celebrazione della Pentecoste, la venuta dello Spirito Santo, e noi celebreremo le Cresime con molti ragazzi, giovani e adolescenti che hanno percorso il cammino di fede e completano la loro iniziazione cristiana a Pentecoste il 22 e il 23 maggio, con la celebrazione della Cresima. Sempre per il mese Mariano, su TV City e sui canali Facebook della Basilica, il martedì e poi indifferite il venerdì e la domenica, tengo una Catechesi Mariana. Abbiamo iniziato proprio martedì scorso e saranno quattro Catechesi di cammino di fede con Maria. Un periodo storico che ha costretto l'intera popolazione, ma soprattutto la Chiesa, ad adeguarsi a nuove modalità con cui arrivare ai fedeli e anche in questo caso, durante queste celebrazioni, si nota la differenza che però non ha frenato le nuove iniziative e il continuare le funzioni del mese Mariano. Certo. Io dico in più ci ha dato questi limiti che sono i necessari, le dovute distanze in Chiesa, la sanificazione delle mani, la sanificazione degli ambienti e anche un numero non superiore alle 200 presenze durante la celebrazione. Come risvolto positivi io vedo anche un maggiore raccoglimento perché le persone arrivano per tempo, prendono i loro posti, i posti sono anche assegnati. E poi, almeno per noi come Basilica, c'è stato questo grande stimolo sin dai primi giorni del primo lockdown a cercare tutti i canali per raggiungere le persone, soprattutto le famiglie, i bambini. Infatti non abbiamo mai perso contatto con le famiglie e i bambini e adesso, che c'è anche la possibilità di queste celebrazioni in presenza, celebriamo anche una messa per i fanciulli il sabato alle 17. Ma li abbiamo raggiunti subito i ragazzi e le famiglie perché mai abbiamo perso il contatto in tutti questi mesi. Grazie per la cortesa attenzione e per info e segnalazioni potete contattarci alla mail redazione chiocciolatvcity.it o al numero di telefono 340 65 61 484 E con questo è veramente tutto io vi do l'appuntamento a domani con altri servizi. Grazie per la visione